eeeeh cari iscritti eccoci questa nuova puntata di minecraft snapshot benvenuti nello snapshot 23w 06a le novità di questo snapshot potrebbero non essere eclatanti e tanto attese quanto qualcuno magari si aspettava soprattutto in seguito a dopo dei leak che sembrava che sarebbe dovuto arrivare l'archeologia ma alla fine così non è stato speriamo comunque la prossima settimana questo snapshot va detto porta comunque delle cose parecchio interessanti e dei cambiamenti forse necessari a minecraft e apparentemente tutte queste cose arriveranno direttamente nella 1 19.3 e non nella 1 20 quindi non bisognerà aspettare poi così tanto e direi allora di partire da una delle cose che mi aveva affascinato di meno dello scorso snapshot ovvero la schermata qua di creazione di un nuovo mondo che era stata revisionata così nello scorso snapshot per l'appunto nel 23w 05a e adesso cambiano un pochino di cose intanto le schermate le tre tab possono essere navigate utilizzando la tastiera semplicemente con ctrl tab e ctrl shift tab per andare all'indietro in alternativa possiamo usare ctrl e poi 1 tra 1 2 e 3 per andare ad una tab specifica quindi la 2 mi porta a word la 3 a more e la 1 a game è stato poi aggiunto un nuovo pulsante trovabile sia qui nella schermata game sia anche in more eccolo qua experiments che semplicemente non fa altro che portarci a questa schermata dove possiamo abilitare o disabilitare gli esperimenti ci viene detto che sono delle funzionalità potenziali nuove funzionalità e bisogna fare attenzione perché le cose si potrebbero rompere eccetera eccetera insomma sono quelle cose che fanno parte degli snapshot cose non pronte queste cose qua ovviamente si possono attivare le funzionalità il contenuto della 1 20 e anche i bundle cliccando su done e poi su crea mondo prima di no ok parte subito va bene con i datapack ti chiedeva ti diceva guarda fai attenzione perché stai caricando delle impostazioni pericolose cioè potresti rompere il mondo ma a quanto pare con gli esperimenti non lo fanno non chiede che bella quella montagna unica cosa mentre nella schermata more il pulsante sperimenti sarà sempre presente nella schermata gioco sarà presente soltanto negli snapshot quindi nella 1 19 3 nella 1 20 questo pulsante non starà qua ma starà qua vediamo adesso delle novità che riguardano il menu della creativa infatti sono stati aggiunti tutti i diversi dipinti non so dove possiamo trovarli magari in decorazioni o blocchi funzionali sì ed eccoli qua painting painting random questo è quello di base quello che c'era fino adesso se no qua abbiamo tutte le varianti e giustamente spawnerà proprio questa variante quindi wasteland se lo mettiamo qua è uno per uno questo qua sempre spawnerà lo stesso dipinto ovviamente questi quadri sono ottenibili soltanto in creativa e in vanilla bisognerà ricorrere a questo e ciclarlo e ciclarlo e ciclarlo tra l'altro nelle utilità operatori sono presenti quattro dipinti sperimentali mai aggiunti che sarebbero terra vediamo il blocco terra ghiaccio fuoco e aria i famosi quattro elementi di minecraft e la cosa interessante è che mostreranno sia il nome quello in giallo sia la dimensione il 2x2 sotto in bianco sia l'artista in grigio sotto al nome mojang nel caso di tutti gli altri dipinti ovviamente questa cosa cambia quindi qua match christopher zetterstrand che va bene e la dimensione 2x2 ovviamente ci sono anche quelli più grandi 4x4 school on fire questo è tipo uno dei più famosi di minecraft ecco qua questo qui vediamo una piccola modifica ai jukebox che adesso quando riprodurranno la musica faranno anche delle piccole note sopra il blocco soltanto chiaramente quindi quando riproducono la musica e questa è una sorta di anzi no senza sorta è una funzionalità di parità da bedrock nelle impostazioni di accessibilità opzioni accessibilità troviamo adesso una nuova impostazione che dov'è 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 eccola qua damage tilt ovvero lo shake della videocamera del nostro diciamo pov causato da quando prendiamo danno quindi al 100% e dovrebbe essere il default quindi possiamo provare a prendere danno da caduta questo è quello di base se lo mettiamo a 0 credo che il nostro schermo a questo punto neanche si muova proviamo un po' esatto e sinceramente perde molta molta enfasi però magari c'è qualcuno che soffre di motion sickness e quindi è giusto che ci siano queste impostazioni poi comunque ognuno se le modifica come vuole io ad esempio lo voglio e lo lascio così tra l'altro sto notando ma non mi pare ci fosse scritto nel changelog che i testi che superano la dimensione del pulsante adesso fanno avanti e indietro guardate questo qua text background fa avanti e indietro per mostrare tutto il testo nella schermata di keybind invece abbiamo una modifica che sembra molto interessante perché permette di vedere ecco qua quali che carino quali sono i tasti che conflittano infatti qua vediamo su sprint y questo tasto viene anche usato per strafe left quindi muoviti a sinistra e questo sicuramente farà molto comodo a quelle persone che vogliono cambiare tasti ma non sanno quali conflittano con cosa e sicuramente può aiutare a capire quali sono magari farebbe anche comodo una barra di ricerca qua per cercare proprio sia il nome dell'azione sia magari il tasto come fanno alcune mod ma una cosa alla volta sicuramente mojang starà lavorando a questo spero magari anche all'archeologia però fin quando non vediamo non possiamo sapere c'è poi anche un'altra novità che riguarda i cavalli ma in generale qualsiasi cavalcatura montatura e gli scalksensor infatti adesso salire e scendere da cavallo stai fermo dicevo salire e scendere da cavallo azionerà lo scalksensor quindi scendiamo proviamo a salirci vedete si è azionato le frequenze sono 6 per l'ascesa da cavallo e 7 per invece la salita da cavallo sto dicendo cavallo ma in realtà vi ripeto vale per qualsiasi cavalcatura quindi anche per le barche e sì anche per le barche ci sono salito e ci sono sceso anche per le barche funziona questa cosa e arriviamo adesso alle novità tecniche però prima di addentrarci troppo in quelle che sono le vere novità di questo snapshot vediamo prima delle novità per cose che già c'erano ad esempio adesso abbiamo una nuova game rule chiamata do vines spread ovvero se le vines quindi le liane per l'appunto si devono espandere sui blocchi adiacenti di base è impostata a true quindi si espandono ma possiamo impostarla a false e quindi disattivare anche questa meccanica attiva del gioco il comando execute si arricchisce invece con un sotto comando molto molto interessante che sarebbe execute il sotto comando summon eccolo qua questo sotto comando è molto simile al comando summon per l'appunto la particolarità e l'utilità di questo sotto comando sono quella di poter eseguire dei comandi direttamente all'entità che stiamo andando a summonare in un unico comando vi faccio vedere execute summon ad esempio a lei invece di scrivere poi qua l'nbt eventuale che non so neanche se me lo fa fare no possiamo fare run data modify cui facciamo ad accedere all'entità che stiamo appena generando chiocciola s chiocciola s si riferirà per l'appunto all'entità definita qua da summon quindi niente di più semplice poi qua possiamo fare no ai per renderlo stupido facciamo set value 1b e adesso summoneremo un a lei in questo modo senza intelligenza artificiale e quindi per l'appunto immobile eccolo qui il corrispettivo comando senza usare l'execute sarebbe questo ma capite che l'execute da delle altre possibilità mentre poi in questo va utilizzato per forza l'nbt tag nbt per impostargli questa impostazione no ai con il comando con l'execute l'nbt alla fine non lo usiamo davvero utilizziamo soltanto il tag no ai e poi gli impostiamo il valore in questo modo ovviamente vi ho fatto vedere soltanto una delle tante applicazioni che si possono fare con questo summon con questo execute summon e sono sicuro che qualcuno troverà sicuramente modi migliori per usarlo e sfruttarlo al meglio e arriviamo adesso al danno e vi chiederete marichi che cosa hanno cambiato del danno cosa vorresti dire c'è un nuovo modo per fare danno beh sì e no infatti a partire da questo snapshot sarà possibile aggiungere attraverso i data pack nuovi tipi di danno così per dire e specificare anche tutta una serie di opzioni relative proprio a questo danno ad esempio la saturazione da scalare quando si prende danno di quel tipo un eventuale messaggio di morte personalizzato o modificare per esempio gli stessi tipi definiti dal gioco che può essere il danno da congelamento da fuoco da caduta eccetera eccetera ma la cosa più interessante è il nuovo comando slash damage che ci permette per l'appunto di fare del danno o a noi stessi o a qualsiasi altra entità il comando di base è damage l'entità che vogliamo danneggiare in questo caso provo su di me e poi la quantità di danno da effettuare ad esempio 5 vi ricordo in punti salute in punti ferita quindi un giocatore a 10 cuori ma ogni cuore corrisponde a due punti ferita quindi 20 punti ferita in totale quindi però a farmi 5 di danno mi dice quel giocatore è invulnerabile a quel tipo di danno infatti adesso se vado in survival e mi faccio 5 di danno dovrebbe togliermi due cuori e mezzo ecco qua questo perché perché un giocatore in creativa chiaramente è immune a qualsiasi tipo di danno eccetto il danno da void e come si fa allora a fare danno da void oppure danno di qualsiasi altro tipo semplicemente dopo la quantità di danno si può scegliere il tipo di danno abbiamo da freccia dal respawn point mancante dal cactus tutta una serie di cose tra cui anche l'out of world damage ovvero proprio quello che cade nel vuoto questo tipo di danno può far male anche ai giocatori in creativa ed è anche il motivo alla fine per cui i giocatori in creativa muoiono se utilizzano il comando slash kill su di loro vi chiederete ma la mia vita sarà cambiata oppure il danno era soltanto così un'animazione andiamo a scoprirlo la mia vita è scesa di altri due cuori e mezzo e quindi questo vuol dire che se ritorno in creativa e mi applico ben sei punti ferita quindi tre cuori di danno la mia salute andrà a zero e per il gioco io morirò ovviamente uscirà scritto sarà caduto fuori dal mondo perché il tipo di danno che ho ricevuto era proprio out of world ovviamente il comando non è finito qua perché dopo aver specificato il tipo di danno possiamo scegliere at oppure by quindi specificare una posizione con at oppure un'entità una causa del danno che potrebbero andare a differenziare come il gioco interpreta quel danno ad esempio prendete uno scheletro che vi lancia una freccia la freccia è quello che fa il danno ma la freccia è stata lanciata dallo scheletro quindi in chat uscirà scritto il giocatore è stato ucciso dallo scheletro e non dalla freccia facciamo allora una prova con questo villager e facciamo in modo che lui ci faccia del danno a me chiaramente facciamo che ci fa due quindi un cuore di danno con una freccia by mettiamo lo uud di questo villager visto che lo stiamo guardando allora qua il by sarebbe da mettere ad esempio una freccia ma visto che la freccia non esiste effettivamente mettiamo il villager tanto a poco ci importa a noi e il from indica la causa quindi chi avrebbe lanciato questa freccia che ci sta facendo del danno mettiamo sempre il nostro amico villager e se premiamo invio ci dice che siamo vulnerabili sì ma se andiamo in survival riceviamo un cuore di danno e tra l'altro avete visto ho ricevuto anche il knockback che mi allontana dal villager ok quindi se io vado da quest'altra parte magari ricevo sempre il knockback che mi spinge lontano dal villager perché beh perché il villager è come se mi stesse attaccando e quindi tipo non lo so prendo il contraccolpo cose così se dovesse ucciderci quindi mi faccio 20 di danno esce scritto che rich splash hd è stato sparato con una freccia da villager da un villager e sappiamo tutti che una cosa del genere in vanilla in survival non è possibile ma attraverso i comandi da oggi lo è vi faccio un altro esempio diretto in questo caso ho cambiato la causa dal villager a me e in questo caso cosa succederà succederà che la causa quindi l'autore del danno sarò io mentre effettivamente la sorgente del danno sarà il villager la causa del danno quindi in un certo senso chi ha costretto il villager a lanciarmi una freccia se vogliamo dire così sono io e tutto questo per dirvi che all'interno del messaggio nel caso lo preveda uscirà scritto la causa della morte e non quest'altra entità che sarebbe il villager quindi se faccio così ricevo 20 di danno da freccia ma da me e si e cambiano anche i predicati del danno quindi quelle informazioni usate all'interno di data pack per determinare quale tipo di danno era stato inflitto a un giocatore o un'altra entità ovviamente adesso aprendo la possibilità a tipi di danno personalizzati è stato anche cambiato questo predicato di danno per renderlo generalizzato e quindi permettergli di interagire se vogliamo dire così con tutti gli altri tipi di danni che un giocatore o uno sviluppatore potrebbe aggiungere ovviamente per questa cosa vi rimando al changelog visto che viene coperto quasi nel dettaglio tutto quello che sto dicendo e sicuramente non penso mi vorrete sentir discutere di come si crea un predicato per il danno oppure un nuovo tipo di danno il changelog tanto lo sapete è sempre in descrizione e arriviamo adesso all'altra grande novità di questo snapshot si tratta sempre di una cosa tecnica e in particolare di quel testo questo blocco e questo oggetto qua adesso ditemi se notate qualcosa di strano bene se non avete notato niente mi avvicino a questo testo sembra un testo normalissimo si poteva fare anche prima ma a partire da questo snapshot si può fare in maniera tra virgolette un po più semplice perché resta comunque una seria difficoltà nel farlo contro la contro il c ve lo faccio vedere qua non è comunque semplice però è più semplice di quello che era prima perché prima bisognava spawnare tipo una testa del wither ferma con il testo sopra oppure un'entità un armor stand visibile questo comando meglio questa entità il text display spawna direttamente un rettangolo colorato poi come vogliamo noi con dentro un testo per determinare il testo bisogna scrivere questa cosa particolare perché va scritto prima tra virgolette text due punti poi aprire un singolo apice di nuovo aperta graffa di nuovo text tra virgolette e poi l'effettivo testo che vogliamo mostrare con eventuali non lo so colori se vogliamo in grassetto in corsivo poi si chiude la graffa si chiude l'apice e abbiamo finito qua però capito che tutta questa cosa è rintendante soprattutto questa parte text text vabbè che ci vogliamo fare dopodiché abbiamo tutta una serie di proprietà di impostazioni definite per tutti e tre questi oggetti che sarebbero il text display il block display e l'item display ad esempio qua la proprietà billboard ci permette di specificare se uno di questi tre item deve girare e in che modo ad esempio questo è verticale quindi girerà soltanto sull'asse verticale andando a seguire soltanto i miei movimenti che faccio intorno a lui quindi se vado sopra vedete che vedo una riga dall'altra parte invece il diamante gli ho messo billboard center quindi lui gira su se stesso praticamente quindi possiamo vederlo da sopra dal lato e da sotto e lui girerà sempre per fare in modo che guardi verso di noi quest'altro invece il blocco ha come billboard eccolo qua fixed quindi questo blocco non si muove ma non è un blocco è sempre una specie di ologramma block display quindi possiamo passarci in mezzo ma soprattutto possiamo cambiare qua chiaramente l'oggetto facendo item id minecraft diamond ricordatevi il count perché se ne mettete zero non ve lo mostra per qualche motivo e sopra uno invece ve li mostra ma come se fosse sempre uno quindi non chiedetemi l'utilità di questa cosa il blocco ovviamente ha le sue impostazioni tipo inventario se non sbaglio dove possiamo cambiargli il blocco ma poi vi dicevo tutti e tre hanno delle proprietà come può essere la rotazione la posizione quanto devono essere grandi quindi la scala ma anche altre cose tipo adesso proviamo con questo control c la brightness quindi la luminosità che è di due tipi quella del cielo che va sempre da zero a 15 se noi facciamo così 15 guardate questo qua adesso sembra normale ma se mettiamo time set night mentre questo qui quindi prende la luce da quello che c'è intorno a lui quindi adesso è diventata notte non ci sono torce e quindi è più scuro questo qua ha una sorta di override della luminosità e quindi a luminosità fissa del blocco a 15 e quindi permette in un certo senso di fare una sorta di cartello luminoso ma che flutua e c'è anche un'altra impostazione che ci permette ad esempio sempre per il testo di farlo vedere anche al di là dei blocchi quindi come se fosse un'entità una persona comunque il succo del discorso è che ci sono tutta una serie di impostazioni alcune generiche quindi applicabili a tutti e tre alcune specifiche ad esempio il testo il blocco o l'oggetto che vanno studiate approfondite e magari ci va anche giocato un pochino per capire pienamente come funzionano chiaramente per questa cosa vi rimando sempre al changelog non penso mi vogliate sentir parlare per 15 minuti di cose molto molto noiose soprattutto molto tecniche che tra l'altro non ho neanche capito proprio tantissimo io ho passato 20 minuti a capire come funzionava soltanto per fare queste tre cose base non mi ricordo che stavo dicendo comunque vi rimando al changelog sempre qui sotto in descrizione dove vengono coperte abbastanza bene tutte le proprietà e tutti i dettagli di tutti e questi tre oggetti entità anzi entità non sono oggetti l'unica cosa che mi dà fastidio è che se per sbaglio magari non metti il testo il blocco o l'item non hai modo di vedere queste tre entità praticamente diventano invisibili e l'unico modo che hai per ucciderle è attraverso il comando kill magari specificando proprio il tipo di entità quindi text display block display o item display sarebbe carino facessero qualcosa esempio tipo il blocco luce che vedete è così targettabile mentre se non lo ho in mano non è più targettabile e diventa anche invisibile dopo un po ecco qua però come lo riprendo in mano posso vederlo e posso distruggerlo invece no queste tre no ci sono anche delle limitazioni ad esempio il block display non può mostrare quei blocchi che sono anche entità ad esempio le casse e detto questo le novità di questo snapshot sono terminate spero di aver detto tutto quanto nella maniera più completa possibile e spero anche che la prossima settimana avremo qualcosa di più interessante per lo snapshot ad esempio magari l'archeologia non mi dispiacerebbe per oggi però finisce qua vi ricordo di entrare all'interno del mio server discord trovate il link sempre qui sotto in descrizione e se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate ed iscrivetevi noi ci vediamo alla prossima puntata di minecraft snapshot e ciao ciao ciao